Con le crescenti preoccupazioni per la guerra in Ucraina, che potrebbe stendersi coinvolgendo anche l'Italia, molti di voi mi hanno chiesto come non arruolarsi in guerra e farsi riformare. Beh, sappiate che l'argomento era molto di moda ai tempi delle prime due guerre mondiali, ma purtroppo sta tornando attuale. Per rispondere a questa domanda bisogna sapere quali sono i motivi di esenzione dall'arruolamento nell'esercito e nelle altre forze armate. Si tratta delle cause di non idoneità che impediscono di entrare nei corpi militari. Molti credono che anche una piccola imperfezione fisica impedisca di arruolarsi, ma in realtà non è così. È vero che gli aspiranti vengono sottoposti a rigorose visite mediche e accertamenti sanitari, ma è anche vero che sono accettati i candidati con qualche lieve difetto. Proprio come accadeva fino al 2005, quando era in vigore il servizio militare obbligatorio, anziché con reclutamento volontario come avviene oggi. Vediamo dunque come non farsi arruolare in guerra e magari farsi riformare. Ai tempi della leva obbligatoria c'era chi contava sulla mancanza di alcune caratteristiche fisiche necessarie o sulla presenza di alcune malattie per essere esonerato dal servizio militare. In tempi più recenti invece è avvenuto il fenomeno opposto per il desiderio, almeno di molti giovani, di entrare come volontari in ferma prefissata e da qui tentare i concorsi per entrare nelle forze di polizia. Quindi l'argomento che sto per affrontare è bifrontale. Le stesse infermità possono essere fatte valere dall'esercito per dire di no ad un aspirante che desidera arruolarsi, ma anche dal chiamato alle armi in caso di guerra per opporsi a indossare una divisa e imbracciare un fucile. Questa è la legge! Quando i figli sono eredi universali, i figli concorrono solo con il coniuge del defunto, per cui se quest'ultimo non dovesse esserci, i figli saranno eredi universali anche in presenza di altri parenti del defunto. Tutto questo e molto altro su La Legge per Tutti, il libro di Gribaudo, Gruppo Feltrinelli, che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri. Questa è la legge! L'elenco completo delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono cause di inidoneità al servizio militare è contenuto in un decreto del Ministero della Difesa, che viene periodicamente aggiornato e integrato da direttive tecniche che poi costituiscono il manuale per le commissioni che eseguono le varie visite mediche. Queste norme consentono di giudicare i doni e i soggetti che possono essere impiegati nelle forze armate, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile. È il giudizio che un tempo si sintetizzava nell'espressione abile e arruolato. Alcuni corpi richiedono requisiti fisici ulteriori, quindi agli aspiranti all'arruolamento volontario consiglio di fare riferimento alle condizioni indicate nello specifico bando di concorso. Adesso analizziamo le cause di esclusioni più frequenti con una premessa a fattor comune. I medici militari usano una classificazione che distingue le affezioni in lievi, medie e gravi. C'è poi l'aggettivo rilevante che compare spesso nelle elencazioni. Di solito definisce una patologia come causa di impedimento alle funzioni che dovrebbe rivestire un soldato, o magari un marinaio o un pilota. Ci sono quindi alcune patologie che, anche se lievi, sono di ostacolo al servizio militare e dunque costituiscono motivo di esenzione dall'arruolamento. Il piede piatto non costituisce causa di esonero quando la disfunzione è moderata. Ce le ho io, ad esempio, e mi stavano arruolando se non avessi optato per il servizio civile. Il piede piatto diventa invece motivo di esclusione quando è notevole e ostacola le attività fisiche, come la deambulazione, cioè il camminare, o magari lo stare in piedi per periodi prolungati senza provare dolore. I medici misurano il piattismo del piede, sia valgo sia cavo, con appositi indici che calcolano la posizione reciproca delle ossa del piede e scartano chi ha un angolo di costa Bertani maggiore di 140 gradi o un angolo di Morot superiore a 160 gradi. L'asma bronchiale di natura allergica è causa di esclusione quando è grave e ripetuta. Deve essere diagnosticata dal medico e accertata con appropriati esami specialistico-strumentali, come i test allergici e le indagini sulla funzionalità respiratoria. Anche le allergie e le intolleranze, a farmaci o alimenti, ad esempio la celiachia, cioè l'intolleranza al glutine, vanno accertate nella stessa maniera e possono costituire causa di non idoneità al servizio militare quando sono valutate come gravi. I tumori maligni, inutili a dirlo, sono sempre causa di esenzione dal reclutamento nelle forze armate e credo che nessuno vorrebbe fare a cambio. I tumori benigni lo sono soltanto quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali. La depressione o sindrome ansioso-depressiva di per sé non è causa di esonero dall'arruolamento, ma può diventarlo se si associa ad una malattia neurologica o psichiatrica. Deve esserci quindi una rilevante alterazione del sistema nervoso, oppure un serio disturbo nevrotico-psicotico del controllo degli impulsi, ad esempio i frequenti attacchi di panico, oppure dell'adattamento della comunicazione o delle identità di genere tale da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare. È una valutazione che spesso richiede un periodo di osservazione del soggetto durante il quale viene formulato un giudizio transitorio di inabilità temporanea e si compiono gli opportuni accertamenti clinici. Le disfunzioni ai denti, alle gengive e agli altri componenti dell'apparato masticatorio sono molto diffuse. Nell'elenco dei motivi di esclusione dall'arruolamento compaiono le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua o dei tessuti molli della bocca. Sono compresi anche gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi. Queste patologie però devono produrre gravi disturbi funzionali. Non basta quindi avere qualche dente cariato e otturato a un labbro leporino. Le patologie dell'apparato digerente sono frequentissime di varia natura. Vanno dalle difficoltà di digestione alla colite ulcerosa ad altre malattie ancora più gravi. Tra le cause di in idoneità al servizio militare sono previste lernie viscerali e le malattie del tubo digerente, del fegato e vie biliari, nonché del pancreas e del peritoneo, ma sempre a condizione che per natura sede e grado producano notevoli disturbi funzionali. La norma precisa è che tra le patologie dell'apparato digerente è compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado. Invece l'ernia inguinale allo stato di punta non è causa di inabilità. I problemi dell'udito impediscono l'arruolamento quando la perdita uditiva è maggiore di 65 decibel, se monolaterale o del 40% se bilaterale. Anche in questi casi la sordità deve causare rilevanti disturbi funzionali, così la sordità parziale e lieve non è causa di esonero. Il favismo è un'anomalia genetica che provoca una carenza di enzimi nell'organismo e si ripercuote negativamente sui globuli rossi. Dal 2010 il favismo non è più causa di esclusione all'arruolamento nelle forze armate e nei corpi di polizia. I soggetti affetti da favismo vengono sottoposti a test per misurare la carenza dell'enzima G6PDH. Se supera il valore del 30% per i maschi e del 70% per le femmine, si è idoni al servizio militare incondizionato, altrimenti si viene comunque arruolati ma c'è l'esonero dall'impiego nelle missioni di pace all'estero. E veniamo ai miei problemi che tutti conoscete. Tra le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico che possono costituire motivo di esonero dal servizio militare, rientrano quelle congenite o croniche come la scoliosi e anche quelle di natura traumatica. Nell'elenco sono menzionate espressamente le ernie riscali e i loro esiti chirurgici e figurano anche le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici di sofferenza radicolare. A quanti mi hanno chiesto e se mi tiro una martellata sulle dita o magari me le amputo, posso essere riformato? Vi rispondo in questo modo. La legge prevede, tra le cause di non idoneità al servizio militare, la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente, cioè l'amputazione o la paralisi, almeno di un dito della mano. E qui secondo me troveremo gente con nove dita. Falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano. Falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici. Un alluce, due dita di un piede, le deformità gravi congenite e acquisite degli arti. Bene amici è tutto, speriamo che non dobbiate mai far ricorso a questi consigli. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.